Una raccolta firme per salvare gli alberi di via chiusi dal Metrobus. È quanto sta facendo un comitato di cittadini per evitare che questo accada. Sono oltre 332 firme raccolte e nei prossimi giorni aumenteranno perché i cittadini sono profondamente preoccupati per l'inutile sacrificio degli alberi lungo il percorso del progetto Metrobus, linea Castel del Piano, Fontivegge. Il progetto Metrobus rischia di distruggere centinaia di questi preziosi alberi. Si legge nella petizione avviata da Alvaro Lanfaloni, del gruppo ambientalista Gingo Perugia. Il percorso, come detto, prevede il passaggio attraverso via chiusi, una strada costeggiata da alberi e da giardini condominali, e dove verranno realizzati l'apertura dell'estremità sud della strada, oggi senza uscita, per far transitare il Metrobus, veicolo elettrico snodato, della lunghezza di 18 metri circa, in grado di trasportare fino a 130 persone. L'allargamento della carreggiata, per creare corsie preferenziali. Sul lato est, sul lato ovest, realizzazione di quattro fermate, due per lato. Alle estremità nord e sud, date le caratteristiche e le dimensioni del mezzo di trasporto, le pensiline poggeranno su piattaforme rialzate rettangolari di 20 per 3 metri, raccordate a delimitare la strada con ampi marciapiedi. Si stima che l'esecuzione dell'opera avrà come conseguenza l'abbattimento di 100 alberi, lo sradicamento di 500 metri di siepe, la perdita di 2500 metri quadrati di verde, coperto da catrame e cemento e la perdita di oltre 20 autoposti lungo la via. Il tutto all'oscuro dei cittadini, cui non sono stati informati sui particolari dell'opera e sull'impatto ambientale che avrebbe comportato. I cittadini chiedono che il percorso non attraversi via chiusi e propongono, quale alternativa? Il passaggio lungo un itinerario parallelo costituito dalla strada Ponte della Pietra, San Vetturino, che attualmente conduce alla residenza protetta Anchise, il cui prolungamento consentirebbe di realizzare tutte le opere richieste ricollegandosi con via Fiesole per poi inserirsi su via Settevalli, con una sostenibilità ambientale decisamente migliore e mantenendo la linea Castel del Piano Fontivegge. Un servizio facilmente accessibile per i residenti del quartiere e delle aree limitrofe.